Com'è Ganga? Raccontami un po' di come hai trovato i ragazzi dopo una regatta impegnativa come Palma. Ma i miei ragazzi hanno un vantaggio che sono veramente sempre iper focalizzati. Devo dire tutti e tre gli equipaggi. Adesso non c'erano Vittorio e Mael perché Mael ha avuto un piccolo infortunio, ma sia Ruggero e Caterina che Gianluigi, Gigi e Maria sono veramente delle macchine. Cioè ormai da anni abbiamo questo ritmo di allenamenti in riposo, regate in riposo e loro lo gestiscono benissimo. Per cui hanno finito Palma, hanno fatto un po' di riposo ed erano già subito al 100% per ieri. E quali erano le aspettative su questa flotta? A Palma ho intervistato Tita e Kate e mi hanno detto che è cambiato qualcosa nella classe, che è la regolazione dei timoni in navigazione. Sì, allora diciamo che sapevamo che la flotta di ieri sarebbe stata praticamente identica a quella di Palma. Con le nuove modifiche introdotte dalla classe, ossia la regolazione dei timoni che si può fare tirando delle cime, e quindi in modo immediato, avevamo paura che qualcuno potesse avere scoperto. Perché quando hanno fornito il sistema ci sono state delle nazioni che l'hanno avuto prima. Noi però fortunatamente abbiamo un gruppo di lavoro molto buono, perché siamo noi italiani insieme all'inglese, quello che ha fatto medaglia d'argento alle Olimpiadi, per cui fin da subito abbiamo avuto dei ritmi di lavoro alti, e alla fine ci siamo resi conto a Palma che eravamo tra quelli più avanti di tutti. Per cui devo essere sincero, già da qualche giorno prima delle regate, avendo fatto delle regatine di prova, insomma ero abbastanza fiducioso che le cose potevano andare bene, devo essere sincero, sono rimasto un po' piacevolmente sorpreso del fatto che Ruggero e Caterina hanno sempre avuto una velocità veramente pazzesca. In questo momento sono sicuramente l'equipaggio più avanti di tutti. Gigi e Maria hanno degli spunti di velocità altissimi, a volte anche superiori a quelli di Ruggero e Caterina, ma Ruggero e Caterina riescono a metterla in pratica, quella che io chiamo un po' velocità di gara, che è un po' diversa dalla velocità di allenamento, cioè tante volte su tutte le barche accade che qualcuno è molto veloce in allenamento, poi però in regata questa velocità non riesci a metterla in pratica. Allora quello che chiamo velocità di gara, Ruggero è quello che riesce a sviluppare questa velocità di gara meglio di tanti altri. Non ti nascondo che tante volte Ruggero e Caterina in allenamento sembrano come gli altri, a volte in alcune condizioni, a volte anche un po' più lenti, magari provano qualcosa, sai. Però in regata riescono a tirare fuori veramente il meglio di quello che hanno. Bene, ma loro me l'hanno spiegato brevemente cosa cambia. Mi hanno detto che comunque la barca vola più in alto di Bolina, però volevo sapere, adesso che a ieri quelle condizioni sono state un po' più, diciamo, variegate rispetto poi a Palma, e volevo sapere un po' cos'è cambiata. Esattamente nel dettaglio. Allora, praticamente il concetto è questo, tu riesci a mettere quello che in gergo viene chiamato differenziale ai timoni, cioè mentre prima tu li muovevi o avanti o indietro svitando delle viti, adesso avendo delle regolazioni correnti, puoi tra una virata e l'altra modificare l'assetto dei timoni. Allora, praticamente cosa fai? Lo posso dire perché è di dominio pubblico, non è più un segreto. Per far volare la barca di Bolina, tu metti portanza al timone sotto vento, in modo tale che ha una, facciamo finta che questo è il sotto vento, lo scafo sotto vento, tu hai una spinta da parte del timone sotto vento, e metti in deportanza il timone sopra vento, in modo tale che hai invece uno schiacciamento. In questo modo hai una barca che vola sull'acqua, ma che avendo, grazie alla velocità della barca, uno schiacciamento sopra vento è come se il tuo equipaggio pesasse dei chili di più, ok? Quindi, anziché avere 140 chili appese al trapezio, a causa della forza in basso del timone, l'equipaggio te ne pesa 150, è come se tu con laser, con 15 nodi di vento, pesassi 15 chili di più. Che cosa vuol dire? Che praticamente riesci a tenere le vele più cazzate, riesci a orzare di più, ok? Adesso l'ho fatta banale, però il concetto principalmente è questo, è un concetto che si usa sul SailGP, su tutte le barche che hanno la possibilità di muovere indipendentemente uno dall'altro i due timoni, cosa che prima sul nacra potevi farlo svitando delle viti, però poi ti trovavi sempre mura a dritta e mura a sinistra i timoni diversi. Invece così tu vuoi mettere il differenziale nel timone di sopravento, spero di essere stato chiaro. In questo modo, in questo modo praticamente la tua VMG in volo migliora e quindi tendenzialmente voli di bolina più che col nacra precedente, perché prima col nacra per volare di bolina eri costretto a appoggiare, per lanciare la barca, ma non riuscivi mai a tenere le vele cazzate. Adesso col fatto che hai più peso e riesci a tenere le vele più cazzate, banalmente riesci a orzare di più, quindi migliora la tua VMG. Ok, il concetto spiegato va, però è stato chiaro. Ok. Già quando mi hai detto come se pesassi 15 kg più sul laser lì, ho capito tutto. Esatto, esatto. Hai qualche ultimo... Perché, scusami, giusto per chiarire il concetto, il problema delle barche che volano è che vogliono sempre vele molto magre, cioè tu ti trovi sempre ad avere poco raddrizzamento, ok? E quindi smagrisci tanto le vele. Con questo sistema, avendo lo schiacciamento da parte del timone sopravento, puoi avere forme di vele più normali, sempre sul magretto, diciamo. Ma soprattutto il concetto, proprio per renderlo semplice a tutti, che riesci a tenere le vele un po' più cazzate. Io ho un'ultima domanda per te. Io ai ragazzi ho chiesto come si sono preparati per Palma e per ieri, io voglio sapere un po' come si prepara però l'allenatore, il tecnico, perché comunque è una parte fondamentale poi alla fine. Sì, guarda, è una domanda giusta perché io credo veramente che l'inverno sia la parte più importante della preparazione dei nostri atleti, cioè tu in inverno fai gran parte del lavoro, poi ti presenti a marzo che cominciano le regate e quindi poi fai le regate e poi non fai altro che un mantenimento, oppure se ti accorgi che qualcosa non va, lavori su quello che pensi che non sia andato bene. Per cui la molle di lavoro invernale per me è importantissima, infatti io faccio dei carichi di lavoro abbastanza grandi, lavoriamo su diverse cose e generalmente il nostro modo di lavorare è un modo molto buono, cioè non ci si risparmia. Tutti condividono questo concetto che ho io dell'allenamento invernale, per cui diciamo nella nostra classe, un po' in tutte, però nella mia in particolare ci teniamo particolarmente, infatti scegliamo posti dove possiamo allenare bene, i nostri training partner sono persone con le quali lavoriamo tanto e per cui quando ci presentiamo alle regate, noi di solito l'Italia è sempre alle prime regate molto forte, poi magari ci sono altre nazioni che invece in inverno non si sono preparate bene e recuperano dopo un po', però a me piace arrivare ai primi appuntamenti già carichi, cioè mi piace vincere i primi appuntamenti. E tenerlo muro alto per il resto della stagione. Esatto, sì. Ah, ci sta, ci sta. Beh, io ti ringrazio per la disponibilità per il tuo tempo e comunque ti auguro in bocca al lupo anche a te. Grazie. Ciao Francesca. Ciao. Grazie mille. Grazie mille.